Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 8 marzo, festa delle donne, rovinata dallo sciopero più incredibile, più stupido, più demenziale che esiste sulla faccia della terra. Si chiama non una di meno, sono un gruppo di persone che vorrei sapere il nome e i cognomi per capire, incontrarle e parlarci, ecco, mettiamola così. Una stupidaggine, una pagliacciata di questo tipo, io non me la ricordo da tempi, cioè se questo è il progresso, ecco perché sono reazionario. La zuppa di porro parte invece in questo periodo, come sempre, con le questioni politiche, perché sono diventate le questioni più importanti del momento, per il semplice motivo che in questo periodo non c'è un governo, o meglio c'è quello di Gentiloni, che nessuno vuole, cioè il governo Gentiloni è stato bocciato sonoramente da il vostro voto, non le vota nessuno. Il suo ministro degli interni, che veniva considerato la persona più importante del governo e il più gradito di questo governo, è stato fottuto in un collegio uninominale da un parlamentare del Movimento 5 Stelle che aveva fottuto 130.000 euro di rimborsi che aveva promesso di dare al Movimento 5 Stelle. Questo è il panorama. In questo panorama chi ci governa? Quelli che non vogliono gli italiani. E chi ci governerà dopo di loro è ancora più difficile da capire. Bene, in questi giorni cerchiamo di capire chi potrà governare, posto che la legge elettorale non dà la possibilità di governare a nessuno. I giornali oggi, mentre ieri i giornali, aspetta che ve lo leggo perché qual era il titolo di ieri sul mio Movimento e 5 Stelle e Lega puntano sulla crisi del PD, guerre stellari, Di Maio non trova… questo era il gioco di ieri dei giornali. Sapete qual è oggi il gioco dei giornali? Il governo, il PD dice no al governo. Cioè è più forte la posizione a cui non credeva nessuno ieri, cioè nessuno ieri credeva che il PD non volesse andare al governo, oggi i giornali credono al fatto che il PD non è disponibile a fare alcuna alleanza con il Movimento 5 Stelle che sembra in pole position, essendo il primo partito italiano, in pole position per andare al governo. Cosa succede dall'altra parte? Da Movimento 5 Stelle ne abbiamo parlato a lungo, bellissimo il titolo del manifesto di oggi che la chiama La Balena Gialla. L'idea è della balena bianca, cioè un grande partitone democristiano, questo si vogliono vendere per questo e quindi un partito democristiano che, dice il manifesto, può portare tutti dentro. Il giornale oggi titola Le trame di Mattarella, perché l'altro tema fondamentale, e lo vediamo anche in quello che stiamo dicendo qua nella zuppa di porro in questo periodo, è che il centro-destra sembra semplicemente scomparso, non c'è, non esiste. Eppure la prima coalizione, 32% degli uni, 37% degli altri, e l'idea che qualcuno dica che non è il primo partito è una stronzata, è stupido, è sciocco. Io riconosco la vittoria del 5 Stelle, ma non riconoscere la vittoria del centro-destra come aggregato vuol dire non riconoscere, come c'è scritto oggi sui giornali, che il centro-destra ha preso 2 milioni di voti in più rispetto all'anno 2013. Sostanzialmente, dunque, la situazione è molto fluida, il giornale pensa che Mattarella possa fare il paraculetto, ma la cosa più divertente oggi, si fa per dire, sono i panni sporchi di Forza Italia. Perché se è vero che il centro-destra ha vinto, da un punto di vista numerico, all'interno del centro-destra il Forza Italia ha perso, perché pensava di essere il primo partito, invece è risultato il secondo dietro la Lega. Il tempo è libero, sono i due giornali che più si interrogano sulla crisi di Forza Italia, o supposta tale. Processo per Forza Italia, titola Il Tempo. Già ieri Gianmarco Chioccio aveva parlato di tutti gli errori nelle candidature di Forza Italia, ce ne sono stati probabilmente tanti, e Angelucci, che dovrebbe essere oltre al proprietario del giornale e dovrebbe essere senatore proprio di Forza Italia, è il giornale che è amministrato da Denis Verdini, uomo forte di Forza Italia e poi di Renzi, capite il millier da cui nasce, però dicono che queste candidature che sono state fatte da Forza Italia sono servite a tutelare le nomenclature e le pluricandidature che sono state abbondantemente usate in Forza Italia, ma io aggiungo anche nel PD, dice Angelucci, sono servite a blindare i soliti noti del partito. Mi viene da dire che anche Angelucci è uno dei soliti noti e non si riesce a capire il suo impegno politico editoriale quale sia esattamente, però il punto che il tempo coglie perfettamente è che in Forza Italia c'è una resa dei conti. Bastava vedere ieri, Corriere della Sera, che iniziava a dire tutti i dubbi che si pongono sulle scelte fatte da Ghedini, l'intoccabile uomo delle liste. Oggi, nei giornali e nell'elettroscena, continuano a esserci ancora indiscrezioni sul fatto che Gianni Letta, uomo importantissimo per Silvio Berlusconi, si è rimasto molto contrariato dalle scelte elettorali fatte da Silvio Berlusconi e dal suo anturage. Terzo elemento di Forza Italia è l'intervista oggi di Toti che dice non sono stato consultato sulle candidature in Liguria. Eppure, dice bene Toti, in Liguria ha vinto tutto quello che si poteva vincere quando era impensabile vincere la Regione, Genova, la Spezia. L'idea che Toti dica oggi in un quotidiano che non è stato consultato per le candidature fa emergere come all'interno del centrodestra, insomma, ci sia un piccolo problema che si chiama classe dirigente di Forza Italia e oggi questi panni sporchi si leggono sui giornali. L'altra seconda grande questione, secondo me, di giornata è questa stronzata, questa ipocrisia, questa stupidaggine dello sciopero. L'idea che io oggi debba perdere un solo minuto del mio tempo, anzi andrò a piedi, adesso sono fortunato, ma perché c'è un autobus o un tram o una metropolitana che è rallentata perché degli insignificanti sigle sindacali hanno cavalcato un insignificante sigla di estremiste femministe che si chiama non una di meno, che difende la maestra tra le altre che aveva detto uccidiamo i poliziotti, le difende, dice noi siamo le cattive maestre, noi non vogliamo una scuola patriarcale, noi vogliamo l'8 marzo scritto senza apostrofo e oggi ci rompono le balle a noi perché fanno uno sciopero inutile contro la violenza delle donne, nei confronti delle donne, questo è un problema, lo sciopero è totalmente inutile ed è una minchiata, bene, allora l'idea che oggi noi si debba avere dei ritardi nella nostra vita quotidiana per queste cretine, posso dirlo cretine, sono come Trudeau, quello che ha cambiato l'inno canadese, quello che si è vestito da indiano tipo Hollywood Party quando è andato a Bombay, ecco io mi immagino queste donne, non una di meno, che oggi fanno uno sciopero delle donne quando il problema semmai delle donne è quello di lavorare di più, non lavorare di meno, avere stipendi più alti, non fare lo sciopero incrociare le braccia oggi, chiaro? Io la trovo una cosa fantastica il pezzo di Giulio Meotti di oggi che ci fa vedere due foto, quella del Terran nel 1978 in cui non c'era l'obbligatorietà dello Shador e quella di oggi in cui c'è l'obbligatorietà del velo islamico e dice quelle donne che sì, stanno scioperando per la loro libertà, stanno andando in galera per la loro libertà, non queste quattro cretine che non hanno meglio da fare che fare e agganciarsi a uno sciopero nei trasporti pubblici per non so che cosa dei diritti delle donne, è una cosa ridicola, oggi straordinario, anche se poi io ho provato a intervistarlo e meno, come possiamo dire, è meno intenso nella sua dialettica di quanto lo sia nella scrittura, è il garante per gli scioperi, uno che ha una paura di se stesso, Dio mio se mi cade qualcosa addosso, ma oggi il più pauroso garante che ci sia in Italia, a differenza dell'antitrust, della Gcom che mi sembra che prendano delle posizioni, che è il garante per gli scioperi, sul messaggero dice che lo sciopero è stato indetto per una causa nobile, ma da organizzazioni poche rappresentative, allora caro garante degli scioperi, se le società sono poco rappresentative, battiti, fai fare una legge, figurati un po', non c'abbiamo il governo, figurati se fai la legge, non possiamo essere condannati all'ultima sigla sindacale che decide per l'ultima cagata di fare l'ultimo sciopero che rompe le balle in un paese che tutto ha bisogno tranne che per scioperare per queste cose, va bene? Chiaro? No, forse non è chiaro. Beh, sai, siamo anche il paese in cui oggi inevitabilmente sui giornali si devono commentare due altri Minus Abens, si può dire Minus Abens? Uno è Balotelli e l'altro è Saviano, perché Minus Abens? Perché hanno meno degli altri, hanno molto di più, perché sono uomini ricchi, affermati, famosi, ma hanno meno umiltà degli altri. Balotelli che cosa dice? Ieri ha detto una cosa molto semplice, cioè ha detto che si dovrebbe vergognare la Lega perché è il candidato della Lega che è diventato il primo senatore di colore perché lui di colore è stato eletto della Lega. Sapete come si chiama questo? Sapete come si chiama questo? Razzismo. Cioè Balotelli è uno sporco razzista di merda. Si può dire questo? Si può dire. Si può dire perché se tu attacchi una persona per il suo colore della pelle, cioè Balotelli ha attaccato il senatore della Lega non in quanto segatore della Lega, ma in quanto nero. Ha detto in quanto nero non puoi essere il senatore della Lega. Questo ha detto Balotelli di quel senatore. Quindi Balotelli è un razzista, è uno che attacca le persone per il loro colore della pelle. Esattamente il contrario di quello che ci stanno raccontando oggi i giornali. Esattamente il contrario di quello che ci ha detto oggi Gramellini perché dice Balotelli conosce il pregiudizio del colore della pelle e lui applica Balotelli questo pregiudizio nei confronti di un senatore che quale colpa ha, secondo Balotelli, nell'essere diventato senatore leghista? L'unica colpa che ha è quello di essere nero. Un minus abens Balotelli nel non capire che in questa maniera lui diventa un razzista. L'altra cosa incredibile è quello che è successo con Saviano. Io non capisco come i giornali oggi, a parte Borgonovo che mi sembra molto interessante sul libro, anche il giornale, ma insomma non ne abbiano fatto una campagna. Ma insomma quando Saviano dice e Salvini brinda ai suoi nemici in maniera, voglio dire, anche divertente come si fa su internet, mi sembrano delle cose molto più cattive, dice brindo ai miei nemici, Bauro, 99 posse, Saviano, tutta gente che Salvini lo considera uno sporco, becero, razzista, no? E lui brinda con una bottiglia di vino, non dice altro che brindare ai suoi nemici. Sapete cosa gli risponde Saviano? Beviti il tuo piscio. Cioè cita, cita un boss, io non ho mai visto Gomorra, non me ne fotte nulla di vedere Gomorra, questo boss l'ho letto qua, Savastano di Gomorra che dice beviti il tuo piscio, una cosa scusatemi anche di una volgarità incredibile, le parolacce spesso sono meno volgari delle frasi e questa frase che ho detto è veramente volgare, ma è la frase che usa Saviano per attaccare Salvini. Cioè Saviano dice a Salvini e fa una citazione di un boss mafioso che chiede al suo picciotto come atto di sudditanza di bersi la propria pipì. Vi rendete conto di chi stiamo parlando? Cioè Saviano a forza, oggi lo scrive Mario Aiello sul messaggero, grande Aiello, grande Aiello, a forza di frequentare diciamo intellettualmente camorristi e mafiosi, ha assunto un linguaggio camorrista e mafioso. Camorrista e mafioso, nessuno ci può togliere, nessuno ci potrà mai querelare, come non possono querelare Mario Agnello, dicendo che Saviano adotta un linguaggio camorristico e l'idea che l'icona dell'antica morra che da New York ci spiega e ci parla da camorrista è una cosa che mi fa orrore, orrore. Non solo Francesca, volgarissimo, non solo volgarissimo, peggio di volgare, utilizza i termini e gli strumenti mafiosi ed è mafioso nel suo linguaggio, perché usa il loro linguaggio. Io trovo che questi siano i grandi temi della giornata, cioè i nostri intellettuali sono ridotti a Saviano e a Ballotelli, giuro, i giornali ne parlano non a sufficienza e sul governo quello che vi ho detto. Questa sera noi ci vediamo a 105 Matrix, tutto e molto di più sul sito nicolaporro.it andateci, ci sono un sacco di informazioni in più rispetto alla zuppa che vi servo ogni mattina. Se vi piace condividetela. Ciao!